Radio Radicale, siamo con la Presidente dei Senatori del Partito Democratico, Simona Malpezzi, per parlare delle polemiche internazionali sulla visita di Letta in Germania, dove ha incontrato i vertici dell'ASPD. Allora, volevo sapere, insomma, considerate le dichiarazioni che ci sono state nel corso di questo incontro, come è trovato questo tipo di polemiche e questi attacchi? Di solito, durante le campagne elettorali, queste visite, mi sembra di ricordare, le hanno fatte un po' tutti. Ricordo, tra l'altro, una bella visita di Berlusconi negli Stati Uniti nel 2006. Guardi, io penso che siano polemiche assolutamente sterili. Noi facciamo parte di una stessa famiglia, è normale che le forze politiche si incontrino. Posso anche dire che poco prima delle elezioni dello scorso anno in Germania, noi avevamo lavorato qui facendo un seminario per capire quali potevano essere le prospettive di voto in Germania. Quindi è normale che le forze politiche appartenenti alla stessa famiglia si incontrino. Ieri questo incontro ha visto anche uno scambio con il capogruppo al Bundestag dell'SPD e ritengo che sia normalissimo. Chi ci vuole vedere del male è perché forse teme che le cose che noi stiamo dicendo sul fatto che non basta definirsi atlantisti se poi in realtà non confermi qual è la tua posizione nei confronti dell'Europa e continui invece a fare dei distinguo, ecco, forse su questo abbiamo ragione. Non è un caso che noi ci stiamo incontrando con quelli che sono i paesi fondatori dell'Europa, che condividono con noi l'idea di Europa, che è quell'Europa della solidarietà, che ha fatto vedere la sua forza proprio attraverso la solidarietà. Ecco, forse chi sta criticando l'incontro di Enrico Letta è perché questa Europa non la vuole. Il termine post-fascista affibbiato alla Meloni, come l'ha trovato? Si poteva evitare oppure era inevitabile tirare fuori? Questi sono commenti che sono stati fatti da chi racconta una storia per come l'ha vissuta. Io ritengo che ci siano certe affermazioni di Giorgia Meloni che mi preoccupano, non tanto come il pericolo del fascismo, ma come il fatto di strizzare l'occhio a Vox e mi sembra che questa cosa che avevamo già stigmatizzato dopo quel comizio per noi preoccupante, per i toni e per i contenuti, siano state ribadite anche nelle scorse ore. È questa visione che ci preoccupa molto, perché è una visione che porta a discriminazione. Senta, tutti hanno dei legami internazionali e durante le campagne per le elezioni politiche li tirano fuori in un modo o nell'altro, Giorgia Meloni va dai conservatori, ma c'è un politico che non ha bisogno di nessuno e questo è Giuseppe Conte. Come trova il fatto che lui oggi dica io non ho bisogno di andare all'estero? Di solito anche quello è importante. Mi sembra una solitudine, ma non lo splendido isolamento, direi una solitudine per non avere l'appartenenza delle famiglie con le quali poi tu puoi costruire delle politiche. Io sono molto contenta che il Partito Democratico possa riconoscersi nelle famiglie, in una importante famiglia europea e con questo costruire la visione comune di un futuro per l'Europa e che chiaramente è un futuro che riguarda i nostri figli e le nuove generazioni. E questa è la vera speranza che dobbiamo fare da soli, non si va da nessuna parte. La frase di Salvini su Putin, che lui ha cambiato idea su Putin quando ha cominciato a sparare il primo colpo di cannone. Vabbè, io Salvini cambia idea in continuazione su chiunque, può darsi che la ricambia ancora. Secondo lei si vedeva un po' prima da quello che succedeva in Russia che Putin non era un... Io so solo che non sono stata io ad andare a farmi le foto davanti al Cremlino con la maglietta di Putin. Non sono io ad aver fatto delle dichiarazioni in quel senso. Quindi quello che fa Salvini rappresenta un po' quello che ha sempre fatto. Non è un caso che anche quando lui è andato così a rappresentare la solidarietà, come diceva, anche in Polonia, anche lì quel sindaco gli ha detto che forse faceva meglio a stare a casa. Un'ultima considerazione su Marcello Pera, che ieri e oggi ha rilasciato due interviste, una su Libero, l'altra su Repubblica, dove ieri metteva in dubbio la supremazia del diritto dell'Unione Europea su quello italiano e oggi a chi gli chiede della tutela dello Stato di diritto, lui ha detto ma chi è che stabilisce cos'è lo Stato di diritto? Quando noi diciamo che questa destra ha questa visione del mondo, non lo diciamo a caso, perché anche espressioni di questo genere preoccupano. Preciso una cosa, è vero che in questo momento è giusto parlare dei problemi che stanno vivendo gli italiani, del costo delle bollette, degli interventi che noi vogliamo fare, della nostra proposta di governo. Ma nella nostra proposta di governo poi al centro c'è la libertà e c'è la democrazia, così come noi la conosciamo, senza forme inequivocabili che possano essere magari confuse. Bene, io la ringrazio, ringrazio la senatrice Malpezzi, presidente dei parlamentari del PD a Palazzo Matama. Grazie.